La politica non dovrebbe essere né serva né padrona, ma amica e collaboratrice, capace di lavorare coraggiosamente per il bene comune, senza lasciarsi tentare dalla corruzione. La visita pastorale di Papa Francesco a Cesena, nel terzo centenario della nascita di Pio VI, si inaugura con l'incontro con la cittadinanza che lo attendeva trepidante in Piazza del Popolo. Un luogo emblematico, ha rimarcato il Pontefice, perché nella piazza si impasta il bene comune di tutti. Le aspirazioni dei singoli si confrontano con le esigenze, le aspettative e i sogni dell'intera cittadinanza. In una città ricca di civiltà e carica di storia, che ha dato il Natale anche a Pio VII, Papa Bergoglio ha messo a fuoco ancora una volta quale dovrebbe essere il volto vero della politica, non asservita alle ambizioni individuali o alla prepotenza di fazioni o centri di interesse, ma capace di dialogare con tutti, soprattutto con i giovani e gli anziani, capace di mettersi in discussione perché la bacchetta magica non funziona neppure in politica e lontana dalla corruzione. La corruzione è il tarlo della vocazione politica. La corruzione non lascia crescere la civiltà. Il buon politico ha anche la propria croce quando vuole essere buono, perché deve lasciare tante volte le sue idee personali per prendere le iniziative delle altre e armonizzarli, accomunarli perché sia proprio il bene comune a portare avanti. In questo senso il buon politico sempre finisce per essere un martire, diciamo così, al servizio perché lascia le proprie idee, ma non le abbandona, le mette in discussione con tutti per andare verso il bene comune. E questo è molto bello.